Shakira e Piqué si sono ormai definitivamente lasciati e la cantante potrebbe avere un nuovo fidanzato. Ma è vero? La fine del matrimonio fra Shakira e Piqué non smette di far discutere, alcune voci vedrebbero la cantante già impegnata con un nuovo fidanzato. Ma è vero? Leggi anche, Ricky, il cantante bacia un ex, concorrente della pupa e il secchione, ma lei è fidanzata, ecco chi è la ragazza, foto, Shakira ha un nuovo fidanzato dopo Piqué. Shakira e Piqué si sono ormai lasciati, sono stati proprio i diretti interessati a chiedere massimo rispetto per il loro dolore, soprattutto per i loro figli. La coppia pare sia scoppiata a causa di alcuni tradimenti da parte di lui. In questi giorni però il gossip su un nuovo presunto fidanzato della cantante impazza sul web, Shakira ha deciso di concedersi una vacanza rilassante con i suoi figli Milan e Sasha e sembra che insieme a loro ci fosse anche un affascinante ragazzo, sconosciuto al grande pubblico. Le foto alcuni magazine spagnoli hanno pubblicato le foto di Shakira e il presunto nuovo fidanzato mentre fanno surf insieme, ma siamo sicuri che sia davvero così? Ai fan della cantante sembra strano che si sia già buttata fra le braccia di un altro uomo, visto il fresco divorzio da Piqué. In effetti, poi, gli scatti riportati dai giornali iberici inquadrano solamente l'artista insieme ai suoi figli, eccone un esempio di seguito, gli scatti Shakira, comunque, non ha confermato o smentito alcun rumors. Il divorzio in realtà Shakira e Piqué non si sono mai sposati, ma dopo la loro rottura sono comunque costretti a trovare un accordo per la gestione dei figli. Sembra che questa ipotesi però sia difficile da raggiungere, la cantante vorrebbe tornare a vivere a Miami e portare con sé i bambini, ma il suo ex compagno è contrario. Cosa succederà ora? Lo scopriremo presto. Seguici su Instagram cliccando qui. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.